Siamo con Marco Peruzzi, portiere della Molinese che si è giudicata il Trafalio Linda Mercuri. Un primo tempo con qualche difficoltà nella finale? Voi nel secondo tempo siete riusciti a prevolerire direttamente con un 5-1 di break. Il primo tempo era più tattico, nel secondo complisce anche la stanchezza. Dopo queste partite le squadre si sono un po' aperte e siamo stati bravi in contropiede a punire gli errori altrui. In fase difensiva abbiamo giocato molto bene, con poche sbavature, nonostante l'Aziago è temibile, infatti con poche occasioni è riuscito a fare tre gol. Una partita che è stata il finale di questo torneo, molto intenso, sei partito in tre giorni e poi come è stato per voi avere questa esperienza Civitavecchia? Sì, dal punto di vista organizzativo come al solito sono una sicurezza ragazzi di Civitavecchia che la città è molto gradevole. E' stata dura, però fortunatamente l'abbiamo portata a casa, che era la cosa più importante. E poi al secondo tentativo siete riusciti a vincere questo torneo? Sì, quest'anno siamo arrivati più preparati, hanno cambiato qualche giocatore con più esperienza, avevamo un testo tecnico molto alto e fortunatamente abbiamo fatto il nostro dovere. Proposti per l'anno prossimo? Dovrei aver firmato per Molleale, quindi torno a casa e spero che sia una bella stagione, come quella di quest'anno.